Ti pregherei di alzarmi la voce quando parlo in modo che si possa sentire meglio La voce va benissimo così com'è Grazie Sai che qui dal punto di vista tecnico non si fallisce mai Siamo sempre in diretta al Malafronte Il grafoma nei niti continua e persiste a fare i suoi disegni strani, verdi, rossi e gialli Sul retro, sullo sfondo, bianco di... Sopra il palco, per un'enorme massa di calore e di fumo che ormai si taglia con il coltello Marble noir Marbre 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 No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla Marbre No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla Marbre No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla Marbre No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla Marbre No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No, mi diceva che stava in una situazione abbastanza tranquilla No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.